benvenuti in questo nuovo video di salvezza e oggi siamo su clash of clans su clash of clans e allora ragazzi oggi attaccheremo facciamo anche il play clan che saluto ancora a tutti soprattutto Thomas e lui che è un capo molto bravo per me e leonardo saluto falcon 1 spero che mi segua ancora e gli vorrei dire se vuole fare un video con me spero che guarda ancora i miei video e ok e saluto ancora a tutti ok andiamo a fare un attacco attacchiamo faccio due skip dai si trova uno subito faccio lo skip e l'ultimo skip ok no niente vedete ragazzi mi sono appena accorto che non ho registrato allora ragazzi guardate guardate qui la batteria che sta fregando guardate quanto e lì c'era e a me serviva ma dopo un casino ma un casino ma un casino ma un casino ma un casino non c'è che è più di a me non c'era una piazza d'acqua non c'era la cura troppo del crambo perché no la cura per non far morire dai giganti qui una fuori e a destra c'è questo e gli giganti possono curarsi meglio e non curarsi meglio e non ti sono serviti i buonioni e vanno sembrata si colpiscono il re barbaro, il deposito del nuovo, poi c'è un difficile, guardate, 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 2 è che gli esco a fare una stella e anche 2 è arrivato ai campionati, 3 volum proprio non guardate qui, qui ho un po' del re, sto portando il re lì in continuo ho visto odore, no, dai, dai lì vicino a te lo strumento no, per favore non andare, per favore non andarci e ci va guardate il mago, guardate il mago, lo stavo per colpire e adesso è qui a dormire, io me lo giocherò anche, così va più veloce e ho fatto una cazzatura e ho capito che non è, curavo, curavo, non è vabbè, va bene, così va ora, ora, ora ok, raga, il video finisce qui adesso non ho messo la webcam perché non non mi funzionava ancora, quindi ciao ciao